Abbiamo cominciato questa nuova avventura della mia carriera accademica con grande entusiasmo in un dipartimento storico, un dipartimento che contribuisce grandemente agli iscritti in Ateneo, quindi l'impegno sarà importante. Nel inizio del mio mandato da direttore ho subito dichiarato che la principale e unico termine che dobbiamo tenere tutti in mente sono gli studenti che sono la nostra ragione per cui siamo qui ed è il punto sul quale bisogna concentrare tutte le nostre attenzioni nell'erogazione dei servizi e in ogni loro necessità perché questo è il nostro principale obiettivo. Nel mio programma ha anche inserito l'ottica dell'internazionalizzazione in cui crediamo molto, con diversi colleghi, con numerosi contatti che speriamo di sfruttare anche nei confronti dei ragazzi cercando di dargli opportunità per andare all'estero e ovviamente mantenere il nostro già riconosciuto livello di ricerca essendo già stato il Dipartimento d'Eccellenza nella precedente assegnazione da parte del Ministero. Come dicevo è un dipartimento che regge l'Ateneo in maniera importante per quanto riguarda gli iscritti, per questa nostra attenzione e per i nostri molteplici corsi di laurea. Noi abbiamo aumentato ancora l'offerta partendo dal nostro corso storico che è quello della laurea magistrale in giurisprudenza e della triennale in scienze economiche al quale abbiamo poi dopo poco aggiunto la magistrale in economia. Successivamente abbiamo virato su scienze umane con il corso di laurea magistrale, l'M85 bis, a numero chiuso ministeriale, sempre molto ambito, al quale abbiamo associato sia la triennale NL19 che la magistrale NLM50, sempre nell'ambito di scienze umane. Da ultimo, che ha avuto grandissimo successo, con nostro grande piacere, è il corso di laurea triennale in scienze motorie e diritto sportivo che ha l'obiettivo di formare ragazzi che vogliono intraprendere questo ambito molto attuale sia dal punto di vista prettamente medico, quindi di riabilitazione, che dal punto di vista sportivo in quanto il nostro corso di laurea triennale è compatibile con una magistrale che viene erogata in altri atenei, ancora vediamo se saremmo in grado di farlo anche noi, che può formare anche il cosiddetto procuratore sportivo che è tanto di moda e tanti ragazzi vedono come obiettivo lavorativo. Questa è la nostra offerta, l'anno accademico è cominciato, ancora è possibile iscriversi, noi abbiamo già ottimi risultati ma vi aspettiamo, aspettiamo ancora con i quali hanno fatto una prematricolazione, sperando che si convincano, si decidano e si uniscano al nostro Dipartimento. Un saluto a tutti e buon anno.